Ciao a tutti, sono di qua. Buongiorno. No, io faccio una domanda da una posizione un po' diversa, inteso, non una posizione di chi deve iniziare, di chi ha già iniziato da un po' di anni, ma non la smette appunto di voler imparare, voler avere un confronto con gli altri. Quello che volevo chiedervi era, parlando di cultura, parlando di arte, parlando anche del mondo, perché ci accomuna un po' tutti, un testo o un film o un autore o un artista che vi hanno spinto a amarlo, da poterlo consigliare a chi vuole iniziare o a chi comunque già fa qualcosa e vorrebbe farlo meglio. Eh sì, rispondiamo. Iniziamo da loro, che non hanno detto niente. Che ti posso dire? A me è l'unica cosa, poi è successo dopo, ci sono arrivato dopo, si è ricollegato tutto, è stato guardare Tattoo Nation, il documentario con Freddy. E poi si è ricollegato negli anni, perché sono arrivato a fare quello stile e dieci anni prima avevo visto quel documentario quando ancora non mi interessava fare quello stile. E si è chiuso il cerchio. Si è chiuso il cerchio, mi ha aiutato, non ti dice nulla a livello tecnico, ti dà solo ispirazione, ti racconta un po' come è stato il movimento, soprattutto va bene il cicano. Quindi il mio consiglio è questo. Allora, il mio, diciamo, non c'è niente di preciso che mi ha detto devi fare quella cosa lì. È stata un po' un'evoluzione che mi ha portato a creare uno stile. Ci sono state delle persone di riferimento che ho stimato tantissimo, ho conosciuto, mi hanno aperto gli occhi, mi hanno stimolato per fare meglio, diciamo. che era un tatuatore americano, era un Timmy B, e quello mi ha cambiato il modo di vedere il tatuaggio. Sono arrivato al tatuaggio per mille vicissitudini, dalle amici che si cominciano a tatuare, da quella cosa che fin da piccolo comunque ti intrigava e volevi entrare in questo mondo. Poi è entrato lì, ho fatto di tutto e di più per riuscire a conoscere un qualcuno che mi aprisse gli occhi e mi desse proprio la spinta per una persona sostanzialmente, più che un film o altro. Questa è stata la mia esperienza. Ok, ci sono state tante esperienze, libri, persone, eccetera, che mi hanno lasciato tante cose. Però se penso al momento lampadina, sono due episodi con la stessa persona. Io ho lavorato on and off, dieci anni con Henning Jorgensen, che è un'autorità nel mondo del tatuaggio giapponese. Quindi parliamo di livelli. Due episodi mi hanno fatto accendere la lampadina. Una volta ho sentito un autore che si chiama Joko Willing, che era un ex militare, che diceva che un leader vero, lead by example, vale a dire lui comanda attraverso l'esempio. Quindi non è che sta lì, spiega, dice, fa. Lui senza nulla, prende, fa le cose e lì ispira le sue truppe. Dello stesso modo, io un giorno ho visto Henning e lui praticamente è fully booked, a bestia perché è uno dei migliori, eccetera. Fa bodysuit, fa schienate, quindi lui c'è quel tipo di clientele. Un giorno lo vedo che stava preparandosi per fare un sole tribale così, su un polso. E ho pensato, io immaturo, ho pensato, ma che cazzo fa il sole? E merda, no? Boh, e lo guardavo. E praticamente era una cliente sua di tanti, tanti anni, quindi logicamente voleva quello che lo faceva. Io in quel momento lì ho capito cosa vuol dire essere un professionista. Lui si è messo a sistemare la postazione, montare le macchinette, ok? Guardava gli aghi per vedere con la lente che fossero tutti belli precisi affilati, sistema. stava sistemando quel tavolo come se lui sapeva che dopo quel tatuaggio lì moriva. Io ho detto, la madonna. Ha detto, ok, siediti, si è messo a fare il solino tribale con una concentrazione di un maestro ninja, ok? E lì ho detto, ecco, questo è un professionista, ok? Invece di dire, eh, ho detto, no, io questo te lo faccio. Ora ti faccio un sole tribale o una stellina di Henning Jorgens. Capito? Quindi quello è stato uno. Quell'altro è un po' più simpatico, ma insomma... Lo studio dove lavoravamo aveva due piani, il bagno era dietro e c'è praticamente la porta che dava sul parcheggio, ok? La porta, fa conto, qui c'è il vetro e qui era coperta, no? Vado di là, passo, così, no, ti casca l'occhio sul parcheggio, vedo uno che si trege il pantalone. Ho detto, ma... Torno, lo guardo. Ed era un barbone accacato davanti allo studio. Ho detto, lo guardo, ho detto, me la sto immaginando sta cosa? Un po' surreale, un film. Ho detto, boh, vado di là tutto stranito. Ho detto, guarda, ti hanno cattato davanti alla porta. Il barbone si tira su i pantaloni e scappa, no? Ho detto, boh, Hennin che fa? L'unico barbone. C'era la gente a lavorare, le shopgirl, insomma, no? Tutta la gente, quella che pulisce i tubi. Hennin ha detto, torno subito, si toglie i guanti, prende e va a pulire. Ora, ci avrà avuto gente per pulire. Un leader comanda attraverso l'esempio. Ok? Io lì ho imparato cosa vuole essere professionista, no? A vedere il dragone. Ok? insomma. Io avrei voluto rispondere con dei titoli di libri, ma poi sembro stronza. Allora, personalmente, è un libro Calligraffiti, è un movimento di Nils Schuhl-Mulman, un artista che magari chi fa calligrafia conoscerà. Poi, nello specifico, quando mi occupavo di lettering un pochino appunto più corsivo, così, un libro di BJ Betts, lo sketchbook di BJ Betts. Pari esperienze, senza cagate sulle porte, e ovviamente... No, sì, ne ho visto di peggio. No, però, ovviamente, lavorare... Io ho sempre lavorato con persone molto più grandi di me, con molti piani di esperienza, quindi, è chiaro che cercavo nelle persone con cui lavoravo appunto i leader, l'esempio. Quindi, ecco, se è solo per la parte libri, questi due libri, poi tutta l'altra esperienza, ovviamente, viene sul campo. Allora, io dico che i libri, i film, sono tutte cose molto importanti, però sono delle cose che se hai già uno spunto da qualcos'altro che hai vissuto veramente, ti possono aiutare a chiudere il cerchio. La cosa che mi ha aperto gli occhi è stato fare tutti i viaggi che ho fatto in Giappone, nel senso che se tu sei appassionato a uno stile, vai alla fonte di quello stile, quindi, nel mio caso, sono andato in Giappone, mi sono fatto tatuare in Giappone, ho preso, anzi, ci ho messo forse dieci anni a farmi fare la schiena, l'ho fatta completamente a mano, sono andato la prima volta solo per prendere appuntamento, quindi ho fatto queste 12-13 ore di volo per andare a prendere appuntamento, ho mandato al tempo un fax per, perché era l'unica maniera con cui potevo comunicare con questa persona qua, quindi stiamo parlando di Orioshi Terzo, un tatuatore famosissimo, insomma, che ha aperto le porte del tatuaggio giapponese al mondo, perché se non c'era lui, nessuno sapeva cos'era un tatuaggio giapponese, quindi, è una persona a cui devo tantissimo, quindi il mio primo percorso verso lo stile giapponese è stato proprio questa cosa qua, prendere e andare in Giappone e fare tutta questa esperienza, mi ha aperto gli occhi non solo essere là nello studio e farmi tatuare ed essere un cliente e guardare cosa che facevano loro, ma anche tutto il viaggio, il fatto di dire ok, investo questi soldi nella mia cultura, investo questi soldi in questo tatuaggio, perché questo tatuaggio mi darà molto di più di quello che credevo, cioè mi ha dato molto di più di quello che credevo. Cosa ho fatto? Ho speso i soldi, ho fatto 12 ore di viaggio, ho sentito un male cane, mi sono fatto tatuare, ho dormito praticamente per terra perché a testa in giù perché non potevo, avevo la schiena dolorantissima e ho fatto così per 10 anni di fila per poi tornare ed essere una persona completamente diversa perché tutti questi sforzi che io ho fatto per avere questo tatuaggio qua mi hanno insegnato tutto quanto e ti dico tutti i soldi che io ho speso mi sono tornati centuplicati proprio perché tu investi in te stesso quando fai un tatuaggio, per quello è importante fare un'esperienza diretta perché l'esperienza diretta è la cosa che vi insegna più di tutto, è la cosa che vi apre gli occhi, quando tu torni a casa non vedi più le cose come prima tanti dicono guarda che i soldi che tu spendi in un viaggio in un viaggio a caso sono i soldi meglio spesi perché quando torni hai gli occhi di un'altra persona vedi situazioni diverse e anche a livello di tatuaggio è questa cosa qua, più fate esperienze più questa cosa qua vi apre gli occhi e vi dà la forza per andare avanti. Tante volte sento i miei clienti che mi dicono che io sono di Vicenza mi dicono ma sai devo venire a Milano tante volte e io penso cavolo io mi sono sparato 12 ore andare 12 ore tornare 1200 euro andare e quindi ti dico tante volte sono un po' così perché penso ma probabilmente non ti interessa abbastanza cioè le cose più difficili sono le cose che poi ti danno più soddisfazione ragazzi perché la cosa che tu ti sei sudato tramite uno sforzo personale tramite i soldi tramite tutte queste cose qua perché c'è c'è quello che nasce ricco che dice ok io ho i soldi posso fare quello che voglio magari mi manca la voglia e c'è quello che magari non hai i soldi dice ok io non ho i soldi per andare in Giappone in realtà non è vero perché è una questione di priorità tu magari puoi decidere di non andare l'anno successivo da quando hai deciso ma nel giro di 4 anni di 5 anni è solamente una questione di scelta tu scegli una cosa piuttosto di non scegliere una non si può far tutto quindi ok non mi posso permettere questa cosa adesso cosa faccio mi trovo un lavoro migliore mi metto via i soldi non vado in vacanza perché voglio farmi il tatuaggio io le capisco queste cose qua c'è tanta gente che viene e sta bene e non ha problemi di pagare invece c'è tanta gente che mi dice io mi faccio gli straordinari per pagarmi il tatuaggio e io questa cosa qua la apprezzo tantissimo come sebbene lavorando anch'io ho fatto fatica perché 20 anni fa non era semplice andare in Giappone da solo e avere un tatuaggio anche perché poi la difficoltà di certe cose non è cominciarle è finirle ragazzi perché si vede se una persona ha gli attributi quando finisce una cosa non quando la comincia quindi la cosa che ti apre gli occhi è l'esperienza e la devi volere in maniera devi diventare pazzo per quella cosa lì cioè io sono una persona che si appassiona tutto e quando vede una cosa farebbe 24 ore su 24 quella io penso che questa ossessione che io ho è la cosa che mi ha salvato non so come dire sono molto pigro però sono forse più ossessionato a qualcosa quindi quando desiderate qualcosa cercate di so che è brutto essere ossessionati da quella cosa lì e volerla e concentrarvi su quella cosa lì questa cosa qua ti apre gli occhi e ti permette di vedere molto più lontano di quello che vedete quindi a questo punto non so di cosa parlare di libri di cacca fuori dai negozi o di viaggi quindi la mia esperienza è stata questa studiare pittura all'accademia per fare a freschi perché era quello che volevo fare era il mio sogno l'ho fatto 13 anni mi ha distrutto la schiena e c'è stato un momento di crisi nell'edilizia nel 2008 2000 quello che è e nessuno pagava più infatti mi dovrebbero dare un sacco di soldi perché non vedrò mai al che mi sono messo a vendere antiquariato anche se avevo già fatto le mie acqueforti le mie cose le mie esperienze in incisione all'accademia non avevo capito quanto mi mi piacessero e quanto mi sentivo mie più della pittura in realtà al che ho preso coraggio e ho lasciato stare l'antiquariato per ritornare alla mano e a fare acqueforti questo grazie a tutti grazie a tutti